Sì, sali anche sopra che li prendi tu. Vai tu? La resta è che come fotografico analista abbiamo scritto la FMSI, ne abbiamo mandato una che è anche al CDN, un po' diversa, ma più o meno i concetti sono più riguarda la situazione della FMSI, come professoressa. Quindi, abbiamo indirizzato una che ha detto del corretto. Sì, sì, non l'ho ancora ricevuta. Però dovrei prestare. Magari è bella l'ultimo. No, no. Se volete vai in via. Eh, sì. Ci si potesse incontrare per discussione seriamente sarebbe interessante, anche per voi prese. Il giornale è fatto anche su fotografici. Come facciamo oggi? Va bene. Grazie, grazie. 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 Buongiorno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Benvenuto in particolare al microfono.